Io non riuscivo ad arrivare e vedevo questo sporco che proprio era diventata un'ossessione assolutamente un po' come adesso Sasha ossessionata dalla finestra. Ciao ragazze, ciao ragazzi, grazie per aver cliccato su questo nuovo video. Allora, 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 oggi andremo a vedere dei prodotti, come avete letto, che ho acquistato su Amazon, che per me sono molto validi e che spero possano aiutarvi in qualche modo a risolvere alcune piccole problematiche che avete dentro la vostra abitazione. Sotto nelle infobox trovate i link, tutti rigorosamente Amazon, dove li ho acquistati. Vi ricordo come sempre che è probabile che i link sotto ai video, se di Amazon, possano essere in qualche modo affiliati. Vi dico, è possibile perché tante volte non ho lì tanta voglia di andare a creare il link affiliato e quindi a volte li butto lì alla rinfusa, però sappiate che c'è questa possibilità. Sentite Sasha sotto che si lamenta e in rivolta perché lei vuole uscire, ma fuori c'è una bufera di pioggia e lei sta dentro casa, quindi non vi fate impiedosire da Sasha, assolutamente. Mondo gatto non capisce questo piccolo problema della pioggia. Iniziamo subito e sono prodotti che appartengono a categorie completamente diverse l'una dall'altra. Inizio da un prodotto abbastanza particolare ed è questo. Sì ragazze, sono un paio di mutandine lilla in questo caso e sono delle mutandine che io ho acquistato appunto da Amazon, una confezione di 5 pezzi con fantasie tutte diverse. Le ho pagate circa 16 euro. Perché vi segnalo questo prodotto così un po' particolare? Vedrete anche alcune cose dopo in relazione al fatto che io molto spesso soffro di problemi intimi e quindi ovviamente il primo consiglio che vi viene dato dal ginecologo, ma in generale è quello di utilizzare prodotti accessori poco attillati, di utilizzare delle mutandine il più possibile di cotone, insomma cose di questo genere. Devo dire che quando io ho cominciato a avere per le prime volte questo genere di problemi, ovviamente come molte di voi temo, utilizzavo mutandine molto sintetiche o comunque sia molto belle, ma che effettivamente il cotone hanno il sode passaggio proprio e quindi mi sono messa alla ricerca di mutandine effettivamente per tutti i giorni, se possibile 100% cotone o comunque sia con una percentuale molto alta di cotone. Il panico non si trovano, tranne i mutandoni proprio quelli giganteschi, non si trovano oppure non si trovano le taglie e mi sono rivolta al fedele Amazon. Ho scoperto tra l'altro proprio a causa di questo tipo di accessori che Amazon ha tutta una linea Amazon Basic dedicata proprio sia alla biancheria per la casa che alla biancheria intima, non solo mutande ma anche reggiseni, canuttiere, veramente trovate qualsiasi cosa. Queste in particolare sono 95% cotone e 5% elastene, quindi non hanno proprio il 100... scusatemi, 100... muori Sara in diretta video, non hanno proprio il 100% di cotone, come vedete sono, scusatemi, Amazon Essential si chiama, queste sono XL e sotto tra l'altro trovate così tanti commenti oltre alle tabelle delle taglie e vi sarà veramente difficile sbagliare la taglia, quindi io sono molto soddisfatta perché quando mi sono arrivate la prima volta, questa è la seconda volta che li acquisto, hanno un tessuto morbidissimo, le indossate non si sentono e sinceramente in parte ho anche molto risolto i problemi di cui vi parlavo. Altri prodotti e poi cambiamo completamente genere, sempre in relazione a varie problematiche magari di igiene intima, sono due creme, due gel. Uno è questo, è il famosissimo zuccari, però il gel per l'igiene intima, sono 80 ml di prodotto, questo che vedete è completamente intatto perché già ne ho riacquistato un altro, perché cosa è successo? L'ho preso l'ultima volta che ho avuto dei problemi, mi è stato consigliato dalla farmacista e devo dire è stata una cosa stupenda, mi sono trovata benissimo, antinfiammatorio al massimo, veramente stupendo, però l'ho pagato 12 euro in farmacia, quindi sono andata su Amazon a vedere a che prezzo era, già ero scesa a 9 euro. Mi è piaciuto così tanto che per la prima volta nella mia vita ho fatto un riordino su Amazon automatico, cosa significa? Gli ho chiesto di inviarmi il prodotto ogni tre mesi, in quel caso Amazon vi offre uno sconto anche molto alto, era del 25%, quindi sono andata a pagarlo 5,30 euro più o meno, mi riarriverà a casa il 31 di marzo e quindi ve lo straconsiglio ragazzi, in realtà anche della Zuccari, proprio il gel al aloe normale è secondo me il migliore in commercio, ma questo per l'igiene intima è veramente qualcosa di eccezionale sul serio. Sempre sul Generis, cioè sempre un gel calmante, questo è però 50 ml ed è spagnolo, si chiama Gineball, è questo prodottino qua, questo lo trovo più adatto e mi trovo molto bene quando ho dei pruriti molto molto forti, perché questo è più calmante contro il prurito, questo è proprio un antinfiammatorio, un po' un passepartout. Devo dire che questo ovviamente, come dice anche la pubblicità, ha l'aloe come primo ingrediente, quindi non ha proprio neanche acqua ed ha zero profumazione, questa un pochino di profumazione ce l'ha e il primo ingrediente è l'acqua, ma è ottimo veramente come calmante per il prurito intimo sempre. Poi altri due prodotti che vi vado a mostrare e poi vi libero, che a me sono stati utilissimi, uno è questo, è della riete, è il vaporetto piccolino, diciamo la pistola manuale, io non ho mai avuto la scopa a vapore, ma dopo aver provato questo sicuramente la voglio, primo perché sapete che, no non lo sapete, però io vorrei cercare di eliminare il più possibile i detersivi laddove posta, adesso sono passata a quelli Faberlic, i poallergenici che sono meno inquinanti, ma vorrei cercare di eliminarli il più possibile perché penso che questa è una di quelle piccole cose che si possa fare, ovviamente il vaporetto, la scopa a vapore costa un pochino di più, quindi prima di investire in quello ho detto vabbè voglio provare questo, ma in realtà avevo anche un'altra motivazione, ossia l'ossessione per la pulizia della doccia, vedete sei pazza? Sì sono pazza perché il mio bagno è molto piccolo, la doccia è incastrata d'angolo, non è una doccia gigantesca, io sono in affitto, lo sapete, era nuova quando sono arrivata alle classiche porte scorrevoli sul binario e non c'è niente da fare a distanza di tre anni, nonostante uno la pulisca con una certa frequenza, ci sono dei punti dove io non riuscivo ad arrivare e vedevo questo sporco che proprio era diventata un'ossessione assolutamente, un po' come adesso Sasha ossessionata dalla finestra e niente, continuavo lì, pensavo, ripensavo come posso fare e mi è venuto in mente un oggetto di questo genere perché al suo interno ha diverse pistole a seconda dell'applicazione che dovete fare, per esempio c'è questa luncino ricurvo, c'è quella per il vetro, c'è quella proprio oggetto diretto, quindi ha diversi agganci. Allora ovviamente il prodotto diciamo una volta si scalda in pochissimo tempo, quindi circa dieci secondi è pronto all'utilizzo, dura non più di dieci minuti continuativi di spruzzata, però lo spruzzo è continuativo, dopo uno o due minuti vi permette di fare il nuovo ricarico dell'acqua e dopodiché altri dieci secondi per riscaldarlo, quindi sicuramente va caricato più volte se si vogliono fare molte superfici. Io vi devo dire che dopo il terzo tentativo, perché comunque veramente c'erano dei punti che non riuscivo a raggiungere da anni, sono riuscita finalmente a riportare la doccia in uno stato quasi originale. Mi ci sono voluti però ben tre giorni di lavoro, non consecutivi per carità, però per riuscire innanzitutto all'inizio a capire bene come usare la macchina, a capire bene quale aggancio fosse più adatto per lo scopo che volevo ottenere. Sono dovuta andare prima di intervenire con degli altri tipi di prodotti perché veramente erano tre anni di sporco residuo, proprio con questo sono riuscita ad arrivare in quei punti dove con nulla ci arrivavo, neanche inchinandomi con lo spazzolino niente, con il vapore ce l'ho fatta e adesso finalmente la doccia sembra quasi nuova, quindi per me è super approvato e mi ha anche convinto appena ne avrò la possibilità a prendere una scopa a vapore per eliminare anche i detersivi per i pavimenti, questo sarebbe lo scopo ultimo. Fatemi sapere se anche voi adorate questo tipo di prodotti o se invece siete di quelle che pensano che sia l'ennesimo aggeggio inutile dentro casa. Altro prodottino, questa volta siamo in casa, Philips, che mi sento di consigliarvi anche perché costa molto poco, ha la riete e sta intorno ai 39€, se non ricordo male. Ovviamente ce ne sono anche di marche di minor costo, però io ho presi questa perché c'era una super promo e quindi l'ho pagata molto meno del suo prezzo di mercato. Philips non è un silk pill ma è un semplice rasoio, è un rasoio wet and dry, quindi si può usare sia in acqua sia fuori dall'acqua, questa è la scatola, si presenta in questo modo. È un semplicissimo appunto vi dicevo rasoio che sembra quasi uno di quei prodotti per tagliare i capelli e la barba maschili, eccolo qua, vi faccio sentire il rumore perché è abbastanza rumoroso. In questo caso non c'è la batteria ma si ricarica, quando è carico staccate dalla presa e niente ragazze, dura circa un'oretta una volta fatta la ricarica perché secondo me è un prodotto molto molto utile, almeno se avete lo stesso tipo di problema che io. Io il silk pill non lo posso utilizzare perché mi praticamente mi scoppiano tutti i capillari, mi riempio di puntini che durano più o meno una settimana, il tempo insomma che rigresca il pelo. Vado normalmente dall'estetista a fare la ceretta, quindi io di solito uso quel tipo di depilazione, però cosa succede? Che delle volte, talvolta, o non si riesce ad andare, o sia un imprevisto dell'ultimo minuto, una cosa del genere, io non mi trovo molto bene con la lametta perché comunque usandola veramente raramente, allora devi avere la schiuma gel per la rasatura e le lamette che mi fanno anche un po' senso di impressione, sporco tutto il bagno, mi taglio gli taglini e tagliuzzi, quindi già diverso tempo fa inizialmente ne avevo uno di un'altra marca che proprio ha le batterie e che c'è ancora, si trova ancora su Amazon, ma sinceramente per il costo delle batterie mi sono detta, cioè questo costa pochi euro di più, li ammortizzo semplicemente non comprando le batterie, preferisco avere un aggeggetto di questo genere perché mi metto sotto la doccia senza sporcare nulla nel caso in cui io ne abbia bisogno e via discorrendo. A me, su di me, rasa esattamente come la lametta, cioè magari ci devo mettere un paio di passaggi, però su di me ha assolutamente, almeno lì per lì nell'immediato, lo stesso effetto. Quindi sinceramente io vi consiglio di provare un prodottino del genere, quantomeno se ne fate l'utilizzo che faccio io, cioè in caso di emergenza ho bisogno di rasarmi al volo, lametta per lametta, perché fondamentalmente il sistema di rasatura è identico, preferisco un aggeggio del genere, mi metto in doccia, quando faccio la doccia, non sporco nient'altro e ho il risultato che voglio ottenere senza tagli, senza problemi di sorta. Questo è della Philips, vi lascio sempre il link sotto, eccolo qua, questo costa poco meno di 20 euro o proprio 20 euro, dipende dal momento in cui vi collegate su Amazon. Ragazzi, vi ho mostrato tutto, fatemi sapere sotto voi quali aggeggetti particolari avete dentro casa che ritenete vi aiutino molto nella vita quotidiana. Vi mando un bacio grande grande, grazie per aver visto questo video, vi ricordo che se volete sostenere il canale potete iscrivervi, è completamente gratuito, cliccate anche la campanellina. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, grazie.